Ciao a tutti, io sono Stefano e bentornati in un nuovo video di Hot & Cold, la rubrica dove vi parlo dei giochi che ho provato per la prima volta nelle ultime due settimane. Sono ben dieci i giochi provati in questi ultimi giorni, tantissimi, quindi mettetevi comodi, però come sempre prima di iniziare Promotion Time vi invito a lasciare... Fermo, fermo, aspetta un attimo che devo dirti qualcosa di importante. Se segui i nostri social probabilmente già lo sai, ma per questo fine settimana, quindi venerdì, sabato, domenica, se fai un acquisto su Dungeon Dice e inserisci il nostro codice sconto avrai 5 euro di sconto su tutto, anche giochi già scontati tranne i preordini, su una spesa minima di 40 euro. Quindi se riesco a darvi finalmente questi 5 euro di sconto, usateli e fateci sapere su cosa li avete usati. Ciao e ora vi lascio nuovamente con quell'altro che parla e straparla. Ciao! Prima di iniziare Promotion Time vi invito a lasciare un mi piace, commentare e condividere il video, iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati con tutti i nostri contenuti, ma soprattutto per aiutarci a crescere sempre di più. Inoltre sempre qui sotto in descrizione trovate anche i link d'affiliazione per acquistare i giochi citati in questo video. Come sempre a voi non costeranno nulla di più, ma così facendo supporterete il nostro canale, il nostro progetto e il nostro lavoro aiutandoci a migliorare ancora ed ancora, ma soprattutto a darvi sempre più contenuti. Inoltre se siete di Padova o comunque negli intorni vi aspetto anche direttamente in negozio per i vostri acquisti o anche solo per giocare, visto che c'è una ludoteca gratuita. Inoltre sempre qui sotto in descrizione trovate anche i link per tutti i nostri social, sito Facebook e Instagram dove vi aspettiamo con contenuti esclusivi che troverete solo lì e proprio oggi che esce questo video. Nelle nostre storie di Instagram troverete anche le schede dei giochi che citeremo tra poco, dove voi potrete dire se sono top oppure flop, se sono hot oppure cold, quindi vi aspetto anche lì, ma ora cominciamo subito. Sigla! Come vi dicevo i giochi provati sono ben 10 e allora cominciamo. Il primo gioco di cui vi voglio parlare oggi è un gioco investigativo perché vi parlo di Chicken Crimes Salvate Gallo, il nuovo titolo targato Dracomaca. Non mi soffermerò troppo sulle regole di questo gioco perché qui sotto in descrizione troverete la mia recensione approfondita. Chicken Crimes è la nuova uscita della linea appunto Chicken Crimes. Questi investigativi dove c'è questa busta da aprire, questo libretto delle indagini, ma questa volta il principale protagonista, quindi il detective Gallo, è stato rapito. Toccherà a noi cercare di salvargli le penne in tutti i sensi e avremo davvero modo di salvarlo oppure no. Faremo scelte che andranno un po' a cambiare il corso della trama e avremo tre ospiti d'onore, cioè tre detective eccezionali che ci aiuteranno, che sono interpretati nel gioco da Theo di Recensioni Minute, Giulia di Amici di Giula e Silvia di Esci il Gioco. Loro ci aiuteranno nell'indagine in determinati punti e in determinati parti del caso e noi dovremmo cercare di riordinare i pezzi per capire quello che è successo. Anche qui un gioco interattivo perché c'è da usare il telefono in diversi modi molto molto interessanti. Il caso è facile, medio facile, quindi è comunque adatto a tutti e penso sia voluta questa cosa. Comunque mi ha intrigato, comunque mi ha sfidato e mi sono divertito un sacco. I tre detective d'onore sono davvero molto particolari e riescono a strapparti sempre quel sorriso e comunque la trama non è affatto banale. Mi sono divertito, mi è piaciuto tanto quanto il primo e hanno tolto alcune meccaniche come il cercare soldi e usarli per sbloccare determinati paragrafi cui invece si sbloccheranno grazie alle nostre scelte e a quello che faremo. Spero che venga implementata ancora di più questa cosa perché è una cosa da tenere d'occhio. Detto questo va a finire tra i mi piace dei giochi che ho provato in queste due settimane. Il secondo gioco di cui vi parlo oggi è un gioco che ha qualche anno perché credevo di aver fatto tutte le unlock, ne ho vista una e mi sono illuminato tipo ma questa io non l'ho mai fatta e infatti vi parlo di unlock mythic adventure. Qui sono tre avventure, sapete quanto io ami tutta la serie di unlock, secondo me è una delle migliori escape room in scatola e qui abbiamo appunto tre avventure mitiche. La prima è ambientata un po' tra le divinità greche, la seconda invece è ambientata con una vecchia che cara conoscenza dove noi ci trasformeremo in animali per riuscire a fare determinate cose molto particolari. La terza invece a Londra o meglio in giro per tutto il mondo perché sarà il giro del mondo in 80 minuti. Anche qui davvero ci sono delle cose molto molto ben fatte, l'app è sempre ottimamente integrata con il gioco. Per chi non piacesse il fatto che il gioco a volte ti chieda di uscire dall'ambientazione e per risolvere un qualcosa. Qui non mi sembra che ci sia questo particolare questa volta però devo dire che a me non ha mai dato fastidio e mi è sempre piaciuto molto. Tra le diverse ambientazioni non ho trovato nulla di particolare, non è la mia preferita, non è la mia scatola preferita ma dentro ci sono delle chicche davvero niente niente male soprattutto nell'ultimo caso quello del giro del mondo che ci sono un sacco di salti temporali e da cercare qualcosa o qualcuno. Davvero bella. Va a finire anche questa tra i mi piace dei giochi che ho provato in queste due settimane. Ma rimaniamo in tema escape room perché vi sto per parlare dell'ultima deck escape Tokyo Blackout. La particolarità di queste escape sono che sono dentro ad un deck, ad un mazzo di carte che man mano andremo a sfogliare e così si dipanerà l'avventura. Come sapete a me le prime non mi erano piaciute particolarmente ma poi da quella sulla magia è stato un crescere e devo dire che anche questa rispetta un po' questo andamento. Molto molto bella, non la mia preferita perché le migliori rimangono dietro il sipario e quella di Alice nel paese delle meraviglie. Qui parliamo appunto di questa calamità che sta per succedere. Il fatto che va via la luce, c'è questo blackout, non si capisce come. Ci sono uno o due enigmi davvero molto particolari, quasi dei minigiochi che usano delle cose, delle carte in una maniera consueta ma che ha quel qualcosa in più e che mi è piaciuto davvero molto. Quello che non mi è piaciuto molto è la trama perché la trama si basa su questo gran colpo di scena o meglio cercano di intavolarti un colpo di scena che non è un colpo di scena perché la cosa è direttamente nella copertina. Cioè ti fanno sembrare, è un piccolo spoiler ma davvero niente di che. Ti fanno sembrare che sia un terremoto magari causato questo blackout o altro, non si sa chi stia scatenando cosa ma poi appare un Godzilla gigante ma è in copertina quindi la cosa mi ha un po' mi ha fatto un po' sorcere il naso. Enigmi comunque molto carini, secondo me uno non è proprio spiegato benissimo cioè ha più chiavi di lettura diciamo però rimane davvero molto molto carina come come esperienza e le Deckscape stanno crescendo quindi mi stanno piacendo quello che mi fa preferire Unlock rispetto a Deckscape per quanto mi riguarda che io sono testardo di natura quindi se io voglio incapolirmi su un enigma e voglio fare più tentativi con Unlock lo posso fare con Deckscape no perché è una moda che giro la carta per verificare la soluzione poi non posso più provare ma questo è solo un fatto mio. Detto questo va a finire tra i mi piace dei giochi che ho provato nelle ultime due settimane. Il quarto gioco di cui vi parlo oggi ora entriamo in casa Funko Games perché vi parlo di Something Wild, un gioco che ha diverse tematizzazioni però un solo regolamento. Anche di questo non mi soffermerò troppo sulle regole perché qui sotto in descrizione troverete la mia recensione approfondita. In questo gioco noi andremo a creare delle combinazioni di carte davanti a noi, delle scale o comunque dei tris. Quando però noi giocheremo una carta che abbia lo stesso colore della carta potere che troveremo al centro del tavolo potremo andare a prenderci questa miniatura che è tematizzata a seconda del tema del gioco, Star Wars, la sirenetta, Aladdin e quant'altro. Queste carte potere ci danno appunto modi di fare punti in modo diverso o comunque carte extra, turni extra e così via. Potremo avere più poteri durante il corso della partita e sceglieremo noi quale attivare ma solo se abbiamo la miniatura quindi attenzione che averli sì ma bisogna avere questo mini Funko Pop che è bellissimo. Cercando così di avere dei poteri speciali avremo anche modo per fare punti in modo diverso scusate il gioco di parole il primo che arriva a tre punti vince. Un gioco davvero molto semplice nelle meccaniche, divertente ovviamente c'è un po' di fattore fortuna visto che è una pesca di carte però deve essere bello anche combinare i vari temi di gioco per creare una maxi partita. Davvero interessante, semplice nelle regole forse quasi un erede di uno, chi lo sa, però a me ha divertito per questo va a finire tra i mi piace dei giochi che ho provato in queste ultime due settimane. Il prossimo gioco di cui vi parlo oggi rimaniamo in casa Funko Games perché vi parlo di Mad Tea Party, un gioco folle di tavoli traballanti e tazzine altrettanto traballanti. Anche di questo non mi soffermerò troppo sulle regole perché qui sotto in descrizione troverete la mia recensione approfondita ma qui in alto tra le schede anche il nostro gameplay. In questo gioco ambientato nel mondo di Alice nel Paese delle Meraviglie giocheremo carte per prendere le relative tazzine che sono scritte appunto sulle carte e le andremo ad impilare su questo tavolo. Se il tavolo è vuoto la metteremo dove vorremo ma se ci sono già altre tazzine sul tavolo siamo obbligati a metterle sopra quelle già presenti. Quindi si creeranno queste pile infinite di tazzine traballanti perché all'interno il liquido diciamo che non è piano ma è inclinato ma soprattutto il tavolo traballa. Quindi devi cercare di bilanciare appunto questa pila di tazzine cercando di intuire dove sia il baricentro e cercando di non far crollare tutto. Chi fa crollare tutto non è eliminato pesca più carte dal mazzo vince chi o rimane senza carte o riesce a piazzare la dodicesima tazzina sul tavolo. Non è ancora mai successo questa eventualità e di partite ne abbiamo fatte però l'artwork delle carte dei materiali è davvero carinissimo. Il gioco è semplice ma super avvincente. Lo puoi giocare con i piccoli ma anche tra grandi perché ti fai di quelle cattiverie che sono davvero inaudite perché poi mette la tazzina proprio sull'angolino in modo che il tavolo sia sopra inclinato e una volta che è lì la tazzina devi mettere tutte le altre sopra quella tazzina quindi il tavolino si inclinerà sempre di più. Davvero molto molto carino. Poi ci sono delle carte speciali che fanno cambiare giro oppure creare un'altra pila di tazzine in modo da bilanciare un attimino la situazione però davvero un'idea semplice ma carinissima. Anche questo va a finire tra i mi piace dei giochi che ho provato in queste ultime due settimane. Il sesto gioco di cui vi parlo oggi non lo conoscevo non è reperibile al momento quindi mi sto mangiando le mani. Ora vi racconto sono entrati in negozio e mi hanno detto Stefano questo gioco lo devi conoscere. L'ho conosciuto e me ne sono completamente innamorato perché vi sto parlando di spots. In questo gioco noi abbiamo queste carte cane dove le macchie di questi cani vanno a formare dei numeri che noi dovremmo andare a coprire con i dadi che abbiano lo stesso relativo numero. Ci sono delle azioni possibili come lanciare dadi, rilanciare un tot di dadi, comunque fare cose con i dadi. Li lanciamo se abbiamo ottenuto dei numeri che sono ancora scoperti sulle nostre carte andremo a mettere appunto a coprire quelle macchie con i dadi e quando una carta sarà completamente piena la potremo con un'azione andare a girare quindi a salvare quella carta. Perché a salvare? Perché tutti i dadi che non riusciremo a piazzare sulle nostre carte andranno sotterrati appunto vicino alla nostra cuccia e quando avremo un totale pari o superiore o solo superiore ora non mi ricordo comunque a 7 sballeremo e tutti i dadi che ci sono sopra alle nostre carte che non sono ancora salvate vanno rimessi appunto al centro del tavolo e dovremo ricominciare. Un push your luck quindi un spingi la fortuna per cercare di spendere meno azioni per magari girare più carte possibili però con il rischio di sballare e perdere tutto. Un gioco che ha delle illustrazioni bellissime perché sono irriverenti ma molti irriverenti senza mai scadere però nel nel volgare o ridicolo e quei cani sono davvero bellissimi. Mi ha ricordato un sacco un can't stop quindi quel gioco dove devi lanciare i dadi per scalare la montagna solo che qui ci sono dei cani bellissimi. Per questo non può che finire tra i mi piace dei giochi che ho provato in queste ultime due settimane. Non vi ho spiegato dove l'ho giocato su board game arena visto che non è reperibile ora devo cercare un modo per reperirlo perché è troppo bello. Il settimo gioco di cui vi parlo oggi è Skull. Sì ve ne ho già parlato ma l'avevo giocato su board game arena ora ho avuto la possibilità di giocarlo fisico. Per chi non si ricordasse su board game arena non mi era piaciuto perché essendo un gioco di bluff non riuscivo a leggere gli avversari o comunque guardare le loro espressioni. Ora l'ho giocato nella versione fisica e ve lo racconto. Il gioco ovviamente è sempre quello. Devo giocare uno dei miei quattro dischi coperti davanti a me. Tre di questi dischi sono fiori. Uno invece è un teschio. Io posso aggiungerne uno oppure andare a scommettere. Che ne so scommetto tipo due. Quello dopo di me posso rilanciare oppure passare. Se vinco la scommessa iniziando da tutti i miei dischi devo iniziare a girare un tot di fiori. Tanti quanti sono andati a scommettere. Quindi in questo caso due fiori. Anche qui nella versione fisica il gioco lo gioco volentieri perché comunque una partita dura dieci minuti ma secondo me è veramente molto molto casuale. Non riesco mai a capire o a decidere se conviene mettere un fiore o un teschio. Quindi vado un po' a caso. E a me i giochi di bluff piacciono tanto. Però l'unica parte di bluff che puoi fare è cercare di iniziare un'asta quindi iniziare una scommessa per poi ritirarsi. Ma se lo fai loro capiscono che la tua pila di dischi non è così buona. Perché se vai a girare così un teschio vai a perdere uno dei tuoi quattro dischi a caso. E il primo che riesce a vincere due scommesse vince la partita. Non lo so se dovessi giocare a un gioco di bluff forse sceglierei altri. Questo va molto a fortuna c'è poco bluff. Sì cerchi di leggere un po' l'avversario. È comunque meglio l'esperienza rispetto che a giocarlo su board game arena. Faccio una partita volentieri? Sì non è il mio gioco preferito. Per questo va a finire tra i non mi piace dei giochi che ho provato in queste ultime due settimane. L'ottavo gioco di cui vi parlo oggi è per northwood. Un gioco di animali pucciosissimi e prese un po' alla briscola per un solo giocatore. Anche di questo non mi soffermerò troppo sulle regole perché qui sotto in descrizione troverete la mia recensione approfondita. Per northwood quando ho letto le regole mi è sembrato molto school king e anche di questo vi lascio qui sotto in descrizione della mia recensione. Quindi abbiamo una mano di carte e in base a quella dobbiamo andare a predire quante prese possiamo fare. Ma comunque ci sono delle differenze che lo vanno a rendere un gioco molto diverso. Infatti noi andremo a visitare questi otto feudi, questi otto regni per cercare di riunificarli ma li potremo andare a visitare una sola volta per partita. Quindi faremo otto turni in pratica e ogni feudo praticamente è il numero di prese che dovremo fare. Quindi se io visito il feudo da quattro prese non poterò più fare quel numero di prese quindi quella predizione. Su ogni feudo c'è sopra anche una carta personaggio e gli artwork sono meravigliosi e pucciosissimi di questi sovrani che hanno un seme dominante diciamo con un seme preferito e anche un'abilità speciale. Noi avremo otto carte in mano, gireremo la prima carta del marzo e risponderemo un po' alla briscola. Quindi se avremo una carta di quel seme siamo obbligati a giocarla. Chi ha il numero più alto vince. Se non avessimo una carta di quel seme ne possiamo giocare una qualsiasi altra dalla nostra mano perdendo automaticamente a meno che non giochiamo una carta del seme preferito del sovrano attivo in quel momento. Quindi chi ne so il sovrano attivo piacciono le foglie. Se io gioco una carta del seme foglie vinco automaticamente. Ecco un po' praticamente come se fosse il seme di briscola. Un gioco dove c'è effettivamente un po' di fattore fortuna perché dipende dalla carta che esce dal mazzo. Però ci sono queste abilità speciali che potremo utilizzare durante la partita per manipolare la nostra mano e la nostro mazzo. Sia degli scarti che il mazzo in cui andremo a girare carte. E questo fa letteralmente la differenza. Davvero rende il gioco molto profondo, molto divertente, molto sfidante soprattutto perché dopo aver fatto il gioco base c'è una sorta di quaderno degli scenari dove ci sono altre micro regole per aumentare la difficoltà del gioco e intraprendere questa avventura per riunificare tutti i regni. Davvero molto semplice nelle regole perché attivo un'abilità se voglio dei miei alleati. Giro una carta dal mazzo, rispondo con una carta dalla mia mano, vedo se faccio punto o no e quando avremo finito o tutte le carte che abbiamo in mano o quelle del mazzo di pesca allora il round è finito. Non è che se dico faccio una presa dopo che ne ho fatto una blocco tutto. No, devo finire le carte. Poche regole, super sfidante, bellissime le illustrazioni non può che finire tra i mi piace dei giochi che ho provato in queste ultime due settimane ed è decisamente il mio gioco preferito. Il nono gioco di cui vi parlo oggi è Push, un gioco che dal nome dice tutto. Ci troviamo infatti di fronte a un Push Your Luck, un altro gioco di fortuna che in realtà ha un'idea davvero molto molto carina. C'è questo mazzo di carte con carte numerate e colorate. Noi inizieremo a girare questo mazzo di carte e potremo andare a mettere queste carte in tre file diverse. L'unica regola è che non potremo mettere nella stessa fila carte o con lo stesso numero o con lo stesso colore, quindi cercare un po' di andare a dividerle. Se girassimo una carta che non riusciamo a mettere in nessuna delle tre file abbiamo sballato e tutte le carte che sono al centro del tavolo se le spartiranno gli altri giocatori. Oppure possiamo fermarci quando vogliamo. Quando è il momento di spartirsi le carte i giocatori scelgono uno dei tre mazzetti e se le vanno a prendere, dividendosi poi così le carte per colore. Questo perché ci sono delle carte speciali in questo mazzo, alcune cambiano giro e cose di questo genere, altre sono le carte push, quelle maledette diciamo, sono carte nere che vi faranno lanciare questo dado e la faccia di questo dado vi indicherà tutte le carte di quel colore che andrete a perdere. Quindi lancio il dado, esce rosso, perderò tutte le carte rosse che avevo conquistato fino a quel momento. E l'idea è davvero molto carina. Qual è secondo me il dubbio che il faccio di fortuna effettivamente qui è davvero tanto 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 presente. Perché se fosse stato un gioco del gira e fermati prima di sballare, perfetto, lì secondo me sarebbe stato un gioco che hai anche abbastanza controllo. Però se vai a prenderti magari una colonna, magari perché è l'ultima rimasta dove c'è una carta nera e lanci il dado e ti esce proprio quel colore che magari hai tante carte che praticamente quello che mi è successo, lì vai a perdere un sacco dei punti e in realtà la colpa non è tua ma perché hai dovuto prendere quell'ultima colonna perché eri l'ultimo di turno, c'era quella carta nera e il dado ti è girato male. Peccato, 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 va a finire tra i non mi piace dei giochi che ho provato in queste ultime due settimane. E arriviamo al decimo e ultimo gioco di questo video e vi sto per parlare di codice fantasma. Anche di questo non mi soffermerò troppo sulle regole perché qui sotto in descrizione troverete la mia recensione approfondita. I giocatori si divideranno in due squadre. Ogni squadra ha un capo squadra chiamato spirito, gli altri saranno i medium. I due spiriti hanno un oggetto in comune che devono far capire alla propria squadra. I medium, quindi gli altri giocatori, avranno sette carte domanda, ne sceglieranno due, le passeranno al proprio spirito e ne sceglierà una a cui rispondere. La risposta però è pubblica se la domanda la sa solo la squadra e la risposta invece no. Quindi il fantasma prende questa matita e inizia a scrivere la risposta sulla tavola. Quando noi che abbiamo fatto la domanda crediamo di aver capito la risposta chiamiamo il silenzio e il fantasma si blocca. Danno così poche informazioni alla squadra avversaria. Si continua così a rimpallo finché una squadra non indovina per prima qual è l'oggetto da indovinare ma se passassero otto turni di gioco allora nessuno vince la partita. Davvero anche qui regole molto semplici ma che riesci a tenere incollati al tavolo con una tensione sempre crescente perché tu hai sempre più informazioni sempre frammentate le uniche complete sono quelle che sai qual è qual era la domanda ma sono davvero complete se io chiedo che ne so il materiale del di questo oggetto e mi scrive l e io ho bloccato magari è legno o lana quindi anche lì non è proprio sicuro. Posso far continuare a scrivere la parola con il mio rischio però che la squadra avversaria capisca quale sia la soluzione e quindi possa risalire a che domanda ho fatto. Le carte domanda sono molto diverse c'è forse un pizzico di fortuna perché alcune domande sono un po' più dirette rispetto alle altre ma questa è una sensazione che hanno avuto gli altri giocatori al tavolo. Io no sinceramente. Forse perché ne ho indovinata una con carte orrende cioè con carte con domande stranissime eppure sono riuscito ad indovinarla grazie agli indizi degli altri che quelli che avevo io con le mie risposte. Poche regole si spiega in un attimo ma abbiamo fatto sei partite di seguito una dietro l'altra. Ci ha veramente intrippati e ci sono un sacco di oggetti all'interno del gioco cioè ci sono 600 quindi prima che ne peschi uno uguale a voglia e ci sono comunque 100 carte domanda ma che sì bene o male sono quelle ma se cambia l'oggetto ovviamente cambia completamente il gioco. Non sono solo oggetti possono essere anche diverse cose persone cose di questo genere quindi il gioco è ancora più difficile davvero bello 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 va a finire tra i mi piace dei giochi che ho provato in queste ultime due settimane. E siamo arrivati alla fine di questo video spero che vi sia piaciuto spero di avervi dato una panoramica abbastanza completa dei giochi che ho provato in questi ultimi 10 giorni no in questi ultimi 14 giorni scrivete qui sotto nei commenti quali avete provato anche voi quali vi ispirano quali non vi ispirano quali avete provato quali sono top e flop per voi tanto come sempre io vi leggo e quando posso vi rispondo vi invito poi come sempre a lasciare un mi piace commentare e condividere il video iscrivetevi al canale e cliccare sulla campanella e fare tutte quelle diavolerie che si fanno qui su youtube vi ricordo che qui sotto in descrizione trovate anche i link d'affiliazione per tutti i titoli citati in questo video per acquistarli insieme ai vostri giochi preferiti come sempre a voi non costeranno nulla di più ma così facendo supporterete il nostro canale il nostro progetto e il nostro lavoro aiutandoci a migliorare ancora ed ancora ma soprattutto a darvi sempre più contenuti inoltre sempre qui sotto in descrizione trovate anche i link per tutti i nostri social quindi vi aspettiamo anche lì perché siamo ovunque non ci sono scuse e a me non rimane che darvi l'appuntamento al prossimo video ciao 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 ciao